Ehi tu, sei gaiolo abituale! Oggi ti rivelerò le 5 regole per conquistare una donna. Un giusto sguardo è fondamentale per attirare l'attenzione di una ragazza. È la prima cosa che salta all'occhio, è la propria presentazione. Facciamo finta di incontrare una donna per strada. Donna, per attirare la sua attenzione ci vuole lo sguardo, quello con la S maiuscola. Diciamo un misto tra sono tutto io e bello impossibile. No, così sembri un idiota. Ci vuole quel tocco di aggressività e... Eh no, così sembri un rapinatore. Ci vuole quello sguardo che... Quello sguardo che hai quando cerchi di corrompere la professoressa per avere un bel voto. Esatto. Adesso il tuo sex appeal è salito alle stelle. Conquistarla con le parole. Bisogna saper parlare in modo fluido, magari con qualche termine ricercato, frasi ad effetto. Ci vuole chiarezza e sicurezza. Quindi, se davvero vuoi conquistarla, caro Playboy, è giunta l'ora di parlarci. 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 Ehm... Parlarci. 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 tempo potrebbero esserci dei problemi. Una donna infatti non vuole un uomo troppo smielato, appiccicoso, asfissiante. Bisogna farsi desiderare. Quindi basta con questo sguardo da ebete, basta con questi regali, basta chiamarlo ogni tre per due e basta con questo vestito elegante, basta. Fatti desiderare. Tu sei bello impossibile, ricordi? Non rispondere più alle sue mille chiamate o almeno fallo in ritardo, esci con gli amici e fallo rosicare a casa da sola. Fuck yeah! Ultima regola ma non meno importante è quella di farsi rispettare. Sì perché la donna tende sempre a comandare in un rapporto. Ricorda, tu sei unico, è lei fortunata ad averti, tu sei il boss. Eh no aspetta non esageriamo. Vuole per l'ennesima volta mandarti a fare la spesa? Rispondi no! Vuole che la porti a fare un giro e te sei stanco? Rispondi no! Vuole trascinarti da qualche parte e c'è la partita in televisione? Rispondi no! Vuole che... Eh sì, queste erano le cinque regole per conquistare una donna e io adesso andrei, mi dispiace, ciao... Grazie! 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 Grazie!